70 ai docenti e 140 alle materie della Variegata, offerta formativa dell'Università della Terzietà della Sardegna, terza in Italia per Costituzione nel 1981 e prima in Sardegna, che nella giornata di ieri, 11 ottobre, è inaugurato il 41esimo anno accademico nella sede di Via Pola a Cagliari. L'offerta formativa, perfezionata con l'insegnamento di nuove materie di insegnanti, prevede corsi di media e breve durata, aperti a tutti gli interessati, anche mancanza di titoli di studio, mentre le lezioni sono fruibili se in presenza che a distanza. Il programma accademico assicura la presenza di materie impegnative, così come di corsi più leggeri, compresi quelli di lingua straniera e di informatica, ma un grande interesse è rivolto anche alla presentazione di libri di autorevoli scrittori sardi, lezioni sul campo e conferenze di rispettabili esperti. L'interattività accademica è divisa in 12 macro aree didattiche per identificare e organizzare il percorso accademico di ogni allievo. L'obiettivo è garantire a tutti un apprendimento senza età, nel segno della socializzazione, come occasione di crescita personale.